Si amplia la dotazione di mezzi a disposizione della Polizia Locale dell'Alto Garda e Ledro. Si è svolta l'altro giorno la consegna ufficiale di due Fiat Panda che vanno a sostituire due auto ormai vecchie, la Marea del Comune di Riva del 2002, con oltre 150.000 km percorsi, e la Panda del Comune di Ledro del 2001. A consegnare le due automobili è stato il Presidente della Comunità dell'Alto Garda e Ledro, Salvador Valandro, al Comandante Ivano Berti, alla presenza dei sindaci dell'ambito e davanti ad alcuni operatori del corpo. I due mezzi sono dotati di dispositivi lampeggianti, sirene, estintori e degli altri strumenti necessari allo svolgimento del servizio di controllo e presidio del territorio. Le auto sono a doppia alimentazione, benzina e GPL, e rispondono ai criteri di basso consumo e rispetto dell'ambiente. Ma la dotazione dei mezzi della Polizia Locale è destinata ad aumentare ulteriormente, perché è già stata ordinata un'altra Fiat Panda che verrà usata come autocivetta per i controlli dell'agente in borghese, incaricato di verificare il corretto smaltimento dei rifiuti e quindi di sanzionare l'abbandono incontrollato, ma anche per il trasferimento degli agenti stagionali dal comando ai vari comuni, in considerazione del fatto che per guidare l'autocivetta non è necessaria la speciale patente di servizio. I tre mezzi costeranno complessivamente 43.255 euro. Le risorse sono già state autorizzate dai sindaci e messe a bilancio già nel 2014. Sono autovetture appositamente predisposte per il servizio di Polizia Locale, per l'espletamento di tutte le funzioni di Polizia Locale, in particolare per il rilievo di incidenti stradali e per tutte le funzioni di agente di quartiere, di controllo del territorio. Sono altamente visibili e credo facciano una gran prevenzione, sono molto utili e indispensabili per gli agenti. Sono attrezzati da tutti i punti di vista proprio per un servizio espletato in condizioni di massima sicurezza da parte di tutti gli operatori di Polizia Locale. Possono operare in ogni condizione di visibilità, quindi con lampeggianti e con tutto il materiale necessario per interventi anche di emergenza. Invece una domanda per quanto riguarda la casarma. Che punto sono i lavori per la nuova casarma? I lavori stanno procedendo spediti, dobbiamo ringraziare ovviamente tutti i nostri sindaci e le amministrazioni comunali che hanno fortemente voluto questa importante caserma indispensabile per il buon funzionamento dell'intero corpo intercomunale che permetterà anche a regime di risparmiare nelle spese di gestione. Grazie. Grazie.